Marciava, dall'una e dall'altra parte, una doppia schiera di soldati rivestiti di lucide corazze, con scudi ed elmi adorni di cresse risplendenti di luce corrusca. Ammiano Marcellino Custode Surbis è un progetto di rievocazione storica realizzato dall'associazione No Profit Suodales. E' focalizzato sulla ricostruzione di una unità dell'esercito romano di epoca tardo-imperiale. L'obiettivo è quello di ricostruire un contubernio dei Cornuti Signores, una auxilia palatina attestata a Roma alla metà del IV secolo. E forse è raffigurata anche sull'arco di Costantino. Dall'equipaggiamento agli oggetti di uso quotidiano, dalle manovre di battaglia alla vigilanza sulle mura dell'Urde. Custode Surbis fa rivivere nuovamente i vari aspetti della cultura militare romana della tarda antichità.